Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video... Forse è meglio se lo faccio in un altro modo... Un attimo, un attimo... Ecco qua, penso che vada molto meglio, quindi... Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Natale è praticamente alle porte, siamo quasi arrivati, quindi non posso non approfittare di questo video per farvi gli auguri. Tra l'altro devo aprire dei pacchi, quindi è come appunto se fosse Natale, anche se purtroppo non sono regali, li ho pagati. In quest'ultimo anno è cresciuto davvero un sacco il canale, soprattutto nell'ultimo periodo, mi stavano davvero tante soddisfazioni e ovviamente è tutto grazie a voi, grazie a voi che mi seguite, che commentate, che mettete mi piace, tutto quanto. Sto crescendo non solo a livello di numeri, ma anche a livello personale, sto migliorando, sto imparando a fare video, sto migliorando l'attrezzatura, sto vivendo nuove esperienze, che ovviamente, questo è chiaro, una persona normale che non fa video, che non è conosciuto e tutto il resto, non ne avrebbe mai vissuto. Perciò grazie mille, buon Natale, buon anno nuovo. Sono davvero contento di tutto questo, quindi non posso non ringraziarvi. Bene, ora, siccome di solito mi perdo troppo in chiacchiere, muoviamoci, sbrighiamoci e facciamo questo unboxing. Purtroppo oggi non sono riuscito ad andare nel bosco, quindi sentirete un sacco di rumori. Qua ci sono delle strade, quindi, dato che è anche ora di pranzo, c'è la gente che torna a casa, c'è traffico, clacson, poi ci sono i cani, magari anche le campane della chiesa. Insomma, ci saranno forse un po' di rumori, non so come si sente con il microfono. Mi sono messo questo qui con il filo, così è più vicino, magari si sentono meno. Spero, insomma. Comunque, qua ho un bustone pieno di roba, quindi sbrighiamoci perché stavo a casa da un po' di tempo e non vedo l'ora di vedere cosa c'è all'interno. Cioè, lo so in realtà, però voglio aprirlo perché stava là e non voglio aspettare più di tanto, mi sono già scocciato. In realtà ci sono tre pacche all'interno, ovvero uno, due e tre. Questi due li ho pagati, mentre questo qui no, mi è stato mandato. Quindi andiamo ad aprire prima questo, poi passiamo agli altri. Non so se a voi capita, ma praticamente il 50% dei pacchi mi arriva sempre aperto. Non so se li aprono per controllare o si rompono. Insomma, sembra tagliato, eh. Però, vabbè. Comunque, apriamolo. Facciamo così. Ok, è vuoto. E all'interno troviamo una torcia della Folomov, la 18650S. è una torcia che mi hanno mandato che ci tenevano a mostrare in qualche video e quindi mi hanno detto ti prego, facci il video, facci il video. Non è neanche in commercio su Amazon italiano, la trovate su quello inglese, e mi hanno detto ti prego, facci un video. Va bene. Cioè, se ci tenete così tanto, ok, la mostrerò in qualche video unboxing. Quindi, eccola qua. Vediamo un po' di cosa si tratta. Qui ci sono le varie caratteristiche. Come potete vedere, arriva ad un massimo di 900 lumen, che è parecchio. Dura alla massima potenza 5 ore. Ha le varie modalità, ad esempio, strobo, SOS e anche bacon, che è una modalità strana. E, tra l'altro, usa, proprio come dice il nome del modello, le batterie 18650. E, nonostante sia potentissima, è davvero compatta. Forse per questo la S è small, slim, una cosa del genere. E poi è anche iPX8. Ho rotto il cartone. Per sbaglio. All'interno della scatola troviamo delle guarnizioni di ricambio, un cavo micro USB per ricaricarla, libretto con varie istruzioni e cose varie che non andremo a leggere. E, ovviamente, la torcia. Wow! Vi posso garantire che è davvero piccola. Se vi ricordate la mia Hey Tactical, è lunga così. È lunga così, ha la stessa batteria. Batteria che si trova qui all'interno. Ecco, lo sapevo, c'è anche la plastichina per non far scaricare la batteria. È la batteria la stessa. 2.600 mAh. Si può ricaricare anche questa con il cavetto USB direttamente attaccandolo alla batteria, come per Hey Tactical. Vediamo se è carica la batteria, se funziona. Questa è comunque molto più piccola. Sempre in alluminio anodizzato con la clip che si può rimuovere. Wow, sembra davvero comoda. Vediamo se si accende. Ah, si accende. Questa mi sa che è la potenza massima. Forse non si vede bene nel video, ma è davvero potente. Questa è la minima? No, questa è la minima. Come cavolo funziona? Questa è la minima. wow, non si vede proprio. Non so in che ordine vanno, però forse sale e scende. Quindi schiacciando una volta il bottone si cambia l'intensità luminosa. Dalla più bassa si sale e poi dalla più potente si scende. Non ricomincia subito da capo da quella più bassa. schiacciando due volte invece si passa in modalità strobo modalità SOS e poi c'è la modalità bacon che sarebbe questa cosa strana qua. Lampeggia però è molto lenta aumenta l'intensità gradualmente non so a che serva però c'è. schiacciando poi di nuovo una volta si ritorna in modalità normale. Per spegnere la misa che bisogna soltanto tenere premuto e si spegne. Bella, carina, mi piace. È molto più piccola di quello che pensavo è molto più piccola delle altre che hanno la stessa potenza la stessa batteria penso che sia davvero comoda. ora non so dove potreste acquistarla cioè la vendono su Amazon inglese boh non so però volevano così tanto che ve la facessi vedere quindi Folomov 18 650S ah c'era anche il laccetto dentro con la scritta mi è caduto non l'ho visto però eccolo qua passiamo ora alla parte più interessante del video qui c'è questo pacco arrivato da Amazon e all'interno troviamo che poteva essere l'ennesimo libro me ne sono arrivati tre nell'ultima settimana praticamente però non potevo rinunciare a un libro del genere Fire il metodo universale per accendere alimentare e scaldarsi con il fuoco dopo Norwegian Wood ovviamente non potevo io tra l'altro rinunciare all'acquisto di un libro del genere all'interno vediamo com'è perché non ne ho proprio la più pallida idea ah qua c'è l'indice braci ed esche il piolo a mano il trapano ad archetto il metodo ad aratro il metodo della sega il metodo della cinghia il pistone pneumatico accendere il fuoco con le scintille luce solare energia elettrica e sostanze chimiche dalla fiamma al falò fuochi selvaggi governare e strutturare un fuoco è interessante ci sono anche un bel po' di immagini penso di foto sì ci sono un po' di foto di immagini di disegni vediamo se c'è qualcosa di interessante accendere il fuoco con le scintille beh insomma penso che sia sia carino come libro non posso non leggerlo assolutamente spero diventi uno dei miei libri preferiti quindi spero sia scritto bene nel caso vi farò sapere ah sono arrivato al trapano a mano l'endril bello bello un bel libro di Daniel Hume vi farò sapere com'è com'è questo libro passiamo ora all'ultimo pacco all'interno ci sono varie cose quindi non è già finito ah oh mio dio prima cosa limitless equipment ho preso il loro kit di sopravvivenza non pensavo fosse così è minuscolo è microscopico andiamolo subito ad aprire pensavo fosse molto più grande pensavo che fosse una scatola di questo tipo non so se sentite le sirene qua di qualche ambulanza spero di no comunque è davvero piccolissimo è tutto molto compatto all'interno ci sono le solite cose che si trovano all'interno dei vari kit di sopravvivenza è pieno pieno però non so se è riuscito a vedere però in realtà ve ne parlerò in un altro video faremo un video dettagliato sul contenuto di questo piccolo kit di sopravvivenza e metteremo alla prova tutto quanto quindi alla prossima con questo piccolo kit però bah me l'aspettavo più grande prossimo oggetto un multitool della new wild andiamolo ad aprire un bigliettino ha pure il suo foderino con il passante per la cintura per portarlo in giro ed eccolo qui una pinzetta multiuso che so come usare andrà direttamente a scontrarsi contro uno dei migliori come ha fatto questo qui ora è il suo turno avete detto tanto questo qua non costa niente non vale niente ecco mettiamo alla prova un qualcosa che vale quanto il victorinox c'è il coltello con il blocco della lama non si chiude ci sono vari strumenti insomma c'è il seghetto ma vedremo tutto quanto nel dettaglio in un prossimo video comunque questa qui è la pinza c'è il manico più grande è quello più piccolo è anche comodo da tenere in mano new wild ora non ricordo il modello non c'è penso è una pinza multiuso vabbè comunque ve lo lascio in descrizione poi qua c'è un kit che mi ha veramente incuriosito tantissimo l'avevo già visto parecchio tempo fa però non l'ho presi perché aveva un costo assurdo di un'altra marca e ora ho trovato questo qua c'è del cotone da carbonizzare un cordino che non so cosa serva this is a sample of the new paracord with fire cord fishing line vabbè insomma è un esempio un piccolo pezzo di paracord con l'esca per il fuoco e il filo da pesca ma vabbè non so perché l'abbiano messo qua per fare pubblicità credo e poi qui all'interno c'è ciò che cos'è questo questo non so cosa sia però qui dovrebbe esserci quello che ho aspettato per tutto questo tempo ah eccolo qua eccolo qui un piccolo acciarino da usare con la selce che però ha qualcosa di diverso vedete la forma va usato ovviamente con la selce che è contenuta all'interno c'è l'esca c'è il cotone carbonizzato c'è tutto ma la peculiarità di questo strumentino è che può essere usato come appoggio per il bow drill anche questo lo andremo a vedere però con un video dettagliato a parte ah questo qui forse ho capito che cos'è non sapevo che arrivasse insieme con tutto il resto del kit mi sa che è un tubetto che serve per soffiare nel fuoco eh sì penso di sì un tubetto telescopico per soffiare nel fuoco e alimentare quindi le braci carino non sapevo che arrivasse insieme una cosa in più concludiamo l'unboxing con l'ultimo acquisto che è quello più sostanzioso perché se magna che sarebbe un M.I.R.E. della Pine Tree sarebbe insomma una razione K però al posto di essere militare è civile e all'interno c'è un pasto completo con degli snack dei dolci addirittura ci sono delle buste e ovviamente il pasto completo io ho preso il menù 3 che sarebbe chili con carne mi sa sì mi sa che è chili con carne non mi ricordo e c'è anche all'interno un aggeggino che serve a riscaldare tutto quanto che raggiunge mi sa una temperatura di 50 gradi e alla fine si riscalda il pasto senza accendere il fuoco è un pacchetto interessante che non lo so mi ha incuriosito troppo quando l'ho visto e come sapete sono malato ormai non ho potuto rinunciare a prendere è da provare e ci faremo anche per questo un video è praticamente un unboxing un assaggio di tutte le cose che andremo poi a vedere successivamente se siete interessati a qualcosa in particolare più di tutto il resto fatemi sapere perché magari potrei fare quel video prima di tutti gli altri spero che il video vi sia piaciuto e che sia stato comunque di intrattenimento nonostante le varie distrazioni clacson sirene eccetera purtroppo oggi mi sono dovuto accontentare non sono riuscito ad andare nel bosco che ovviamente è il posto migliore per i miei video però non fa niente spero che in ogni caso sia stato carino vedere questo video fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e soprattutto quale di questi oggetti vorreste vedere in un prossimo video arriviamo subito a 500 mi piace perché con i prossimi 500 mi piace ci sarà il prossimo unboxing ci sono ancora dei pacchi a casa che aspettano di essere aperti quindi aspettano soltanto voi come al solito se non siete iscritti al canale iscrivetevi e rinnovo gli auguri quindi buon natale buon anno nuovo grazie di tutto quest'anno è stato davvero bello mi è piaciuto molto fare i video e spero che sia stato un piacere anche per voi guardarli bene quindi grazie per la visione buon natale e ci vediamo con il prossimo video ciao ciao